Oggi sul nostro Vanilla avevo un sacco di intenzioni nuove ed belle da fare Praticamente prima di tutto mi servirebbero dei blocchi La nederrite, la nederrite, ma che caspita La nederrack, va bene diciamo, qua c'ho un Anson Debris Allora oggi dovremmo andare effettivamente a prendere un Anson Debris Però prima di tutto, cioè non una anche di più Però prima di tutto effettivamente dovrei andare a casa di Nix Siccome lui sta combinando un casino dietro l'altro nel nostro mondo Vanilla purtroppo E infatti adesso andremo a scoprire un attimo i suoi segreti schifosi e tozzi Non so perché tozzi però vabbè insomma Tozzi anche perché a volte ha un dito tozzo lui Cioè nel senso proprio un dito tozzo Vabbè che cosa c'entra questo? Però praticamente dobbiamo invece andare adesso a fargli una T al contrario nella sua casa E voi direte cos'è una T al contrario? Vabbè cercate di immaginarla insomma una stecca in su la T al contrario E quindi chiaramente una cosa di questo tipo chiaramente Perché diciamo ultimamente è proprio fuori di testa Perché ecco qua Questa è una T al contrario vedete? Perfetto Una volta fatta la T al contrario Direi anche di devastare un attimo le coltivazioni Perfetto E direi di andare nel Nether per prendere un attimo le cose Ah però prima di tutto Io direi di investigare un attimo in questa In questo posto qua ragazzi Perché io ho sentito che c'è qualcuno fuori di testa che sta combinando dei casini nel nostro mondo Io ora non vorrei dire ma non si devono permettere Vabbè piccolo regalo Fa pure i regali vuole far finta di essere Però Allora qua non vedo molto A parte questa casa che non è nemmeno finita che è schifo Adesso la tolgo C'è proprio la sbatto L'esplodo 30.000 pezzi E poi guardate quanto è devastato questo mondo qua C'è qualcuno veramente È un È proprio un malandato Un birichino Sarà Gabri Perché Gabri Allora Gabri ha la casa che peraltro Eh no Questo è stato Questo secondo me Scusami un attimo Aspetta Slash coi Io ho un Una magia dovete sapere praticamente Però devo fare il chat settings Ok Praticamente Questa magia consiste nel capire Chi è che fa Le cose Ah Breed Praticamente Ha piazzato questi blocchi qua E ha fatto un pisellino Nella casa di Gabri Mi sembra giusto Insomma Dopotutto Perché non vuoi fare un pisellino Nella casa di un tuo amico Vabbè insomma Certo non posso nemmeno parlare io Perché io l'ho fatto con Nick Per esempio Vabbè Questo è un altro discorso assurdo Però invece Adesso andiamo a scoprire le cose Perché io ho sentito Nella valle dell'est Del Nether Che praticamente C'è una cosa Un movimento illegale E non sto scherzando È illegale per il nostro mondo Credo che sia da questa parte E io non ho le mie lì Tradio solo sa perché Veramente Cioè Una cosa che veramente Non sopporto Questa qua Aiuto Cosa faccio Ok Da questa parte Mi hanno detto Che c'è Esatto Proprio da questa parte Mi hanno detto Che c'è qualcosa Breed mi ha detto Di stare attento Perché potrei Leggermente riscaldarmi Proprio come questa lava fa Perché questa lava A volte si riscalda Dovete sapere Io mi riscaldo Proprio come questa lava Cioè vabbè Penso che lo sapevate già Che la lava Comunque si riscaldà Cioè nel senso Fosse calda No Giustamente E già lì effettivamente Vedo qualcosa Però questo è un mistero Effettivamente Perché Cosa è successo Qui Ragazzi Allora qualcuno Deve essere punito Immediatamente Chi è stato A fare questa Prima di tutto Là c'è un Angel Sanded Breeze Però mi sa che Il nostro Cercare la nederite Penso che possa Essere un attimo Rimandata A chi è stato A fare questa cosa qua Cioè come gli è venuto In mente A chiunque sia stato Adesso vediamo un attimo Perché Allora io tecnicamente Ho ancora Il coi Attivo Giusto Allora qua mi dice Che la TNT Ha rotto il blocco E fin qua C'ero arrivato Perché comunque Questa cosa La può aver fatta Solamente la TNT Perché ha rotto Troppo bene Insomma E poi comunque Là sopra c'è una TNT Vedo Vedetela proprio lì E quindi Secondo me Qualcuno ha rotto la TNT E qualcuno qua Ha fatto un pillar Però dato che io C'ho la mia magia Veramente magica Praticamente io direi Di salire qua sopra Ops Aspettate Perché qua giustamente Bisogna un attimo Togliere la magia Se no poi dopo Non posso piazzare i blocchi E direi di andare A vedere lassù Chi è stato A piazzare quei blocchi là Perché Quelli che hanno Piazzato i blocchi La pagheranno ragazzi E dovete anche voi Immediatamente Scrivere che punizione Questa persona Dovrà Affrontare Dopo che prenderemo Anche la nederite E guardate che In questo neder potrei Anche morirci Dato che ci sono morto 20.000 volte Quindi devo anche stare attento Peraltro perché Sono un po' Fuori legge Fuori No io Io fuori legge Io sono il re di questo mondo Non posso permettermi Di dire una cosa del genere Ma vedete C'è qualcuno Ha fatto anche il pillar Per costruire No vabbè Ma chi è stato Scusatemi un attimo Allora Così Non mi dice niente Che cosa Oh Scusatemi Cosa Uvunic Una persona Un amico Del nostro server Proprio quello A cui ho fatto Il pisellino Che mi aveva avvisato Brid Che è stato lui E io non ci ho creduto Fino ad adesso Lui è stato a fare Questa cosa Lui è stato a fare Questa cosa illegale Ragazzi ma vi pare normale Che una persona Un amico peraltro Nel mio mondo Fa una cosa Così terribile Cioè ha distrutto Il mio neider Come si permette Cioè Veramente Cioè Allora Scusatemi un attimo Vediamo un attimo Questo è stato fatto 118 Giorni fa Addirittura E io Non lo sapevo Oh No 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 Questa cosa Non passerà Inosservata Adesso devo andare A punirlo Prima di tutto Con un qualcosa Che in realtà Non so con che cosa Però dovrò punirlo In un qualche modo E Prima di tutto Direi di prendere La L'hans and the breeze Perché ovviamente Ecco come lui ha fatto Perché ragazzi Dovete sapere che lui Tipo in una notte Aveva fatto Un sacco di nederite Io ho detto Ma sei andato in creativa Per forza Cioè non è possibile Tu in una notte Come caspita Hai fatto a prendere Tutta questa Hans and the breeze E lui ha detto Eh perché Sono stato un sacco Ah è stato un sacco È stato un sacco Non è che Non è che hai usato Una cosa illegale Per distruggere il mio neder Per trovare L'hans and the breeze Perché dovete sapere Che l'hans and the breeze Per chi non lo sa Dico È praticamente A prova di esplosioni Nel senso Non esplode No E quindi Praticamente Se non esplode L'hans and the breeze Vuol dire Che tu puoi usare La tnt Che fa esplodere Tutto quanto Per Prendere La nederite Insomma Però Questa cosa È totalmente illegale Raga Cioè Scusatemi tanto Ma guardate Guardate qua No raga Cioè non è Guardate qua Ma stiamo scherzando No 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 Adesso dobbiamo andare Cioè guardate È tutto distrutto Tutto Però mi sono pure perso Dove caspita sono Allora Cerchiamo Di andare Da questa parte Torniamo Da Verso le nostre tracce Faccio un altro pillar Perché Tanto ormai Pieno di pillar In questo mondo Cioè cosa dovrebbe mai cambiare Dopotutto no Pure vicino alla lava Giusto perché Voglio far vedere Che non ho paura Di assolutamente niente Soprattutto non ho Paura di punire Quel maledetto Schifoso Traditore Della patria Traditore Veramente Comunque Perché Non può aver fatto Una cosa del genere Io dovrò metterlo Nelle prigioni Lui era il prigioniero Peraltro Lui era quello Che doveva Prestare attenzione Alla legge Di questo mondo Invece Ha fatto la cosa Più illegale Di tutte Ha distrutto Il mio nether Che tecnicamente Sarebbe il nostro nether Perché Ci giochiamo Ma nel senso Il mio server Potrò Decidere Insomma Cosa si deve fare Nel mio mondo No E di certo Distruggere il nether Non è una cosa carina A meno che non lo metti a posto Con tutta Tutta la netherrack Adesso guarda Per punizione Lo faccio fare Gli faccio fare Gli faccio mettere Tutta la netherrack Come era prima A mano Perché noi qua Abbiamo la world edit Per magari togliere Qualche cosa Di strano Se serve E diciamo che Non mi pare Che l'abbiamo mai usata A quanto mi ricordo Però No Niente World edit Qua lui deve fare Tutto a mano In vanilla In vanilla Perché tu sei Cioè In vanilla In vanilla Prima di tutto In vanilla Ok Tutto a mano E deve farlo Tutto di una volta Non mi interessa Allora Adesso Prima di tutto Il pisellino Resta E io direi anche Di ingrandirlo un attimo Perché Cioè volevo dire La te al contrario Scusatemi Che veramente sono Un po' Strano No Così ecco qua Direi che è perfetto Adesso però Io devo fare Prima di tutto Devo fare un cartello Perché devo scrivergli La cosa che lui Ha sbagliato di più Allora Faccio I cartellini Ok perfetto Spiegami Come Vabbè Come ti È venuto In mente Di Distruggere Il mio Anzi il Mio Nether Tutto mio Ok E poi dopo Cos'altro Possiamo scrivergli Possiamo scrivergli Tipo Dovrai Scontare La tua pena Negli Inferi Sistemando Sistemando Tutto A Ma A mano In Survival Ecco Così si capisce La mia rabbia Giusto? Un'altra cosa Un'altra cosa Scusate che Stavo pensando Ad una cosa Da scrivergli Però praticamente Mi sono ricordato ora che praticamente Devo scrivere un'ultima cosa Giuro Un'ultimo cartello Io veramente non ho parole Adesso Devo trovare dei modi Anche per vendicarmi Su di lui Perché veramente Mi ha distrutto il nether Cioè io dovrei distruggerglielo Ora prendo un accendino E gli distruggo la casa Ma no Già E alla tua testa Che ti dice la testa Veramente Schifoso E le tue coltivazioni Schifose Poi messe qua Ah no No Questa cosa Non può più passare Inosservata Assolutamente no Ragazzi Scrivetemi voi la pena Nei commenti Io direi che la pena Di fare tutto quanto a mano Di rifare tutto a mano Secondo me È abbastanza Però non lo so Cioè potrebbe Dopo Eoni Che lui Finisce quella roba Potrebbe girarmi Di dirgli Guarda La tua pena Non è ancora finita Devi ancora Scontare la pena E quindi Dovete scrivermi voi Anche che cosa Secondo voi Dovrebbe Fare Per scontare questa pena Perché veramente È un crimine Totalmente Illecito E Cioè se è un crimine Certo che è illecito Vabbè insomma È un crimine Assolutamente Vedibile Che si può vedere Insomma Non esiste in italiano Quella parola Credo Però vabbè Veramente È una cosa Che non sopporto E spero che Lui possa capire Il suo sbaglio Attraverso le cose Vabbè Scherzo Ci vediamo al prossimo video Ciao